In provincia di Tremona, nella campagna, si trovano alcune antiche dimore di assoluto fascino, come Cascina Farisengo e Villa Bottini. Cascina Farisengo sorge sul luogo di una delle più sanguinose guerre civili dell'antichità, avvenuta il 14 aprile del 69 d.C. nell'anno dei tre imperatori, dove Ottone, Viteglio e Vespasiano si contesero con le armi la successione imperiale a Nerone. Da prima segnalata come area di bodri, boschi, argini e terreni non ancora impaludati, è nel catastro di Maria Teresa d'Austria che i terreni risultano arati e la Cascina descritta di pregio per la sua struttura architettonica. Numerose famiglie si sono succedute nel corso dei secoli, come i fodri, i bonetti, gli anselmi, oggi baroncelli. La Cascina vanta un curato parco, dal disegno naturale ancora iniziale e protetto come bene naturalistico. Si vedono un laghetto con proprie acque sorgive, due fontane, le casette del pescatore e Svizzera, l'uccelliera, la ghiacciaia e la serra, tutti elementi dei giardini italiani del 1800. Vi sono anche essenze arbore secolari, per lo più autoctone. Architettonicamente è la tipica Cascina Lombarda a corte chiusa, con la casa pazonale che permette il pieno controllo dell'azienda e spicca per dimensioni, per la sua loggia e per i particolari decorativi. Uno scalone interno mette in comunicazione piano terra e piano superiore, mentre i particolari d'arredo sono davvero curati, con splendidi pavimenti in cotto. Cascina e parco sono accessibili grazie al bocchirale, affrescato con elementi architettonici e floreali settecenteschi, con deliziosi balconcini su un cielo azzurro. Assai interessante è la collezione di 25 carrozze realizzate dai maggiori costruttori italiani dell'epoca e la collezione di attrezzi della civiltà contadina. Cascina Farisengo è oggi un agriturismo di sciarma, che offre la possibilità di pernottare in dieci camere e una suite, finemente restaurate, con materiali originali e ricavati dalle antiche case coloniche. È anche un luogo ideale per i ricevimenti, in grado di far vivere atmosfere di altri tempi. Villa Bottini sorge su un terrazzo alluvionale del fiume Olio. È una tipica foresteria lombarda di origini medievali, dal porticato a colonne in cotto e capitelli a dado smussato, vicino a un porticato più rinascimentale ad Arcate. Nel 1700 subisce una trasformazione insieme all'oratorio di San Rocco. Il porticato medievale accoglie il visitatore, che accede poi nelle sale situate tutte al piano terra. La sala souvenir d'Italie è anche l'ingresso della villa, con paesaggi, a ricordo di viaggi in Italia, strumenti musicali e danzatrici sul soffitto, mentre nelle sovrapporte curiosi ritratti di famiglia seicenteschi. La sala da pranzo ha un grande camino settecentesco e lo scaldavivande da casa padronale di Campania. Il salotto è ravvivato da freschi con piccoli uomini indaffarati, a raccogliere frutta e verdure più grandi di loro. La sala hobby ha un moderno biliardo all'italiana e il contapunti neoclassico. La sala les mariages ha un elegante arredo ottocentesco. La sala souvenir du monde, con ricordi di viaggi in Estremo Oriente e America Latina, in un pergolato trompeuil. La sala napoleonica, dal soffitto a cassettoni, forse omaggio a buona parte di uno dei proprietari. Gli affreschi hanno tutti caratteri ottocenteschi, da ricondurre forse a Giovanni Motta. La villa si affaccia su un vasto giardino di 11.000 metri quadrati, dove è piacevole passeggiare nei vialetti ribassati rispetto alle aree verdi. Vi si ammira una tipica vegetazione ottocentesca, come bagolari, magnolie, tassi, un grande gelso, olmi e carpini, oltre a un piccolo padiglione in muratura e la limonaia, che si conclude con un porticato, che ospita una vasca in pietra, forse destinata all'allevamento dei pesci. Vi si trovano anche una piscina e un campo da tennis. Oggi, Villa Bottini, grazie alla proprietaria Francesca Bottini, è un luogo ideale per eventi aziendali e privati. La limonaia e la piscina sono ambienti ideali per feste all'aperto e cornici per foto e video indimenticabili. La biblioteca può ospitare corsi e seminari, la chiesa di San Rocco, matrimoni religiosi. Ma è anche un bed and breakfast, con sei camere e suite, che conservano pregevoli decorazioni ottocentesche e pavimenti in cotto lombardo, tutte con vista sul parco, col servizio colazione incluso.